A far crescere il vostro canale YouTube Mi scriverò i consigli di tutto quello che ho imparato su YouTube in questi anni Io vi saluto e spero di rivedervi presto Crazy quarter finals guys Crazy, locuria Bayern ancora 0-0 E la Juve vince a Madrid 2-0 Sta vincendo, forza Juve 3-0 3-0 Allora, devo dirvi una cosa Il calcio è pazzo Sì, è vero È vero, George È vero che il calcio è il pazzo È follia È follia Quello che sta succedendo in questi quarti di finale Follia Quattro quarti di finale Più pazzi della storia della Champions League Il calcio è il gioco più bello del mondo È folle È folle il calcio È pazzia È fucking pazzia Anche se fa freddissimo bisogna correre Ancora 4 chilometri Dopo una giornata A livello lavorativo molto bene Ma a livello di risultato Della Juventus A livello della Juventus Male Perché la Juve non è passata Ha dato questo rigore Che Ha ragione Buffon Si può dare Non è un rigore al 100% Quindi rigore Rigore così ce ne sono 40 mila in una partita Il rigore si dà quando c'è al 100% Però Nonostante questo Ha fatto una grandissima partita Devastante stasera la Juventus Impressionante Grande grande partita Quindi Niente Ti spiace Perché è una squadra Italiana Ora Tutti forza Roma La Roma ieri ha fatto una partita fenomenale Siamo in semifinale Siamo in semifinale E dobbiamo cercare di andare in finale Quindi io farò il tifo per la Roma al 100% Come ho fatto ieri E come ho fatto oggi Con la Juve Ora vado a correre Dobbiamo dire di non trovare animali E niente Vado a fare questi 4 km Anche se Franco dice che sono pochi Ma Franco può andare a fare in culo Grazie a tutti Grazie a tutti